Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi abbiamo uno strumento veramente particolare che si chiama craminetto contrabbasso che anche io penso nella mia vita la prima volta che l'ho visto e per farci sentire e provare questo strumento abbiamo l'amico Francesco Bonafè che nella vita suona proprio questo strumento, pensate un po' e quindi chi più adatto di lui per dirci le condizioni e le caratteristiche di questo strumento che abbiamo da vendere. E niente, lascio direttamente la parola a Francesco che ci dirà di che cosa si tratta, di che strumento è e le caratteristiche. Ciao Francesco, dicci pure il tuo pensiero. Beh, questo è un craminetto contrabbasso in si bemolle, discendente al do, direi che è nuovo e penso sia una copia del Leblanc famoso, insomma diciamo che si chiama Pepper Clip, il Leblanc da cui deriva è praticamente identico, la fattezza è spettacolare. Ha un marchio o è senza marchio? Ma secondo me, sì, probabilmente non leggo marchi. Quindi sarà sicuramente uno strumento di produzione orientale, fatto molto bene. Io conosco bene Leblanc e devo dire che è praticamente uguale, è assolutamente identico, nuovo perché chiaramente Leblanc si parla di strumenti degli anni 70 e non li fanno più. E lo proviamo, vediamo. Mi sembra di vedere che hai tamponi in pelle, vero questo? Hai tamponi in pelle bianca. In pelle come il sassofono. Tamponi in pelle bianca, nichelatura fatta nuovo. So se ti vuoi avvicinare un attimo, puoi far vedere. Ecco, dopo lo proviamo. Chiaramente è assolutamente nuovo adesso. Ah beh, certo, sì, sì. Non è stato possibilizzato, provato. Sì, forse un next demo, però sì. Le con didumpi, le condizioni sono app timbili. Sì, forse un next demo farò. A presto. Beh, è veramente suggestivo, mi fa pensare alla nave. Comunque sì, si tratta appunto di un granetto contrabbasso che come io, insomma, penso anche voi non ci sia molte volte l'occasione di poterlo sentire se non nelle bande appunto nazionali più grosse. E niente, ringraziamo Francesco di averci fatto sentire il suono, quindi si tratta di uno strumento praticamente di una copia realizzata in Oriente, ben realizzata, quindi comoda sotto le mani, una buona struttura, che è una copia di Ulleblanc che suona veramente molto molto bene. Francesco è un esperto di questo strumento, quindi ci garantisce questa cosa, quindi invito tutti se lo volete venire a provare uno strumento particolare, insomma, ce l'abbiamo qua in negozio da borsari, in modo che possiate anche voi rendervi conto di queste caratteristiche suggestive. Comunque è lo strumento contrabbasso, quindi è lo strumento più grave che c'è nella famiglia dei Clarenetti. Io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere mi piace sui nostri video, condividere e parlare di noi, e vi aspetto qua da borsari e rotonda attorni a provare questo meraviglioso strumento contrabbasso. Ciao Francesco e a presto, ciao a tutti. Ciao.